Fare di Piacenza un modello per trasformare un rifiuto in risorsa è non un problema. Piacenza capofila, il nostro territorio, è un esempio di comportamenti virtuosi nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti, dice la sestora regionale Sabrina Freda. E di fatti il Comune è primo in Italia nella raccolta di piccoli elettrodomestici, 10 kg per abitante. Piacenza sicuramente ha diversi primati per quello che riguarda la raccolta differenziata. Piacenza sicuramente è quello per i rifiuti dai elettrodomestici, diciamo così. Per quello che riguarda la regione diciamo che noi vorremmo un po' prendere come modello queste realtà virtuose tra cui Piacenza per riuscire a dare degli indirizzi che possano poi portarci alla costruzione del nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti. E quindi sostanzialmente fare di Piacenza un modello per quello che riguarda proprio la capacità di raccogliere in modo differenziato, di recuperare materia e fare in modo che il rifiuto diventi una risorsa piuttosto che un problema.